1.500 spettatori al Palaonda. Niente male per un amichevole, anche se contro i campioni d'Italia. La stagione 2015-2016 inizia sotto il segno dell'entusiasmo in casa Bolzano, che venerdì debuterà a Grazia nella sua terza stagione consecutiva in Ebel. Intanto i Foxes, tornati sotto la guida di coach Tom Pockel, si sono presi il lusso di battere per due volte l'asiago, venerdì scorso all'Odegar e l'altra sera sul ghiaccio amico, in occasione della sfida in memoria di Lino Trinetti, lo storico attrezzista bianco-rosso recentemente scompasso all'età di 64 anni. I tifosi non hanno fatto mancare il loro affetto alla figura del compianto equipment manager e la squadra ha fatto altrettanto, regolando l'asiago con una 2-0, frutto di una prestazione convincente nonostante le parecchie defezioni. Partenza a razzo dei padroni di casa che sono passati in vantaggio dopo appena 4 minuti, finalizzando un contropiede avviato da Saviano e concluso da Matt Pope, che firma nel migliore dei modi il debutto con la casacca bianco-rossa. Il Bolzano sfiora a più riprese il raddoppio, che arriva a 5 minuti dalla fine con Marco Insam, che riceve da Casmirro e firma un 2-0 decisamente di buon auspicio in vista dell'inizio del campionato. Ho visto un ottimo stato di forma dei miei giocatori, nonostante i tempi molto brevi che abbiamo avuto a disposizione per gli allenamenti. Questo mi fa ben sperare per l'imminente inizio del campionato Ebel. Per venerdì conto di avere la squadra al completo e speriamo di far bene. A Capitan Alex Egger il compito di dedicare il successo dei bianco-rossi all'indimenticato Lino Trinetti. Sì, sicuramente volevamo vincere questa partita per Lino. Siamo abbastanza tristi, diciamo. Lui ha fatto parte di questa squadra per gli ultimi tre anni e ci mancherà tanto perché lui è stata una persona grandissima e purtroppo è finita così e presto anche, però diciamo che questa partita la dedichiamo a Lino e penso che abbiamo dato tutto e abbiamo portato a casa anche la vittoria.